Benvenuti, ben tornati qui Yoshi Stavo pensando al video da fare Volevo fare uno squad builder ma ve lo vorrei far uscire insieme a delle tattiche umane Che non abbiamo avuto ancora il tempo di provare Quindi, ripensando alle domande più comuni che mi avete fatto su Ultimate Team Il primo è, la prima domanda è Yo, ma come si fa a vedere dove stanno questi non scambiabili in pila? I doppioni non scambiabili? Allora, i doppioni non scambiabili li mandati con R2 al club normalmente dal pacchetto Ah, quando fai la doppia rotazione del giocatore, lo girate Ti dice non scambiabile, lo giri, non scambiabile Premi R2, a suo giro te lo manda al club Voi avviate un SBC Premete R1 per il club Lo vedete in alto assist archivi SCR R1 di nuovo Questi sono tutti i doppioni che io per esempio ho accumulato E qua stanno, non li potete vedere in nessun altro modo, solo in questo modo così Però ammetto che è abbastanza comodo Anche perché tipo questi li prendi, li frulli tutti Dentro ad aggiornamento oro, ad aggiornamenti per fare i pick Quindi questo è uno dei misteri che abbiamo svelato Punto secondo tra le domande più comuni Apparentemente ieri sera apro la trepia del sette e mezzo Dopo che carriamo 40pile del sette e mezzo e non mandavo nulla Dirze Cassa Allora, ritorniamo a noi Una delle domande più frequenti sono state quelle delle evoluzioni Ora vi faccio vedere due siti per fare un'unità sulle Evo Faccio vedere quello che penso di fare pure io Perché ancora non ho deciso E soprattutto come funzionano quest'anno Allora Prima cosa Altriamo lo schermo del PC Ah, come al solito Come vedete il prezzo è diverso da quello del video di ieri Più andiamo avanti più callano ovviamente Perché ieri era il 20, oggi è il 21 Andavanti troverete un prezzo molto competitivo Codice sconto Yoshi Se volete prendere Sono sicuro e affidabili Insomma, tutto quello che sponsorizziamo da più denanno So che molti di voi Perché me lo dicono che acquistate Insomma Siete bei Maialoni Quindi continuate Cioè continuate State sempre attenti Nel senso non esagerate Però siete molto carini Allora Tolto questo qui Andiamo su Allora Foodbin Foodbin per farvi un'idea di chi vi potete fare C'è la Popular Evolution Player Quindi Vai su All Popular Player Delle evoluzioni E sotto vi dice Quale evoluzione è E sono sotto i più Più vissi Più votati su Foodbin Ok Quindi questa è una roba molto utile Secondo me Perché ti fai proprio un'idea Di chi ti puoi andare a fare Cioè diciamo che Non ci sa più quello segreto O quello che ti devi andare a vedere te Clicchi E poi ci sono le tre Evo Tipo Club Member Reward Ci stanno Molto interessanti Cadioglu Gomez Balde Badi Lorenzo Couton Però qui partiamo da un punto Quest'anno le Evo Sono molto più Se ne saranno molte di più Da come ho visto che sono partiti Primo punto Secondo Sono molto più Variegate Nel senso che tu puoi mettere Anche giocatori Che non rispettano i requisiti E si upano su stazze differenti O comunque non prendono il boost Sull'altra stats Vede tipo Bae Balde Rimangono fissi A 91 velocità Quindi ora bisogna capire Se volete fare Calciatori Preferiti A cui farete tante Evo Che diventeranno Più avanti Sempre più forti Ok L'unica cosa è Occhio ai playstyle Perché ovviamente Se gli dai in playstyle Loro al giocatore Una volta che arrivi a due Penso che te fermi Perché stiamo a settembre Quindi quelle con i playstyle Vanno valutate in un certo modo Quelle senza playstyle Come queste E poi fa chi vuoi Qui può prendere pure il bronzo E farlo diventare A 99 a marzo Quindi o ve fate I giocatori della vostra squadra preferita Giocatori che piacciono tanto a voi E cercate di renderli sempre più A livello di gameplay E carte uniche Perché c'è solo voi Oppure andate sur meta Come quel Io rente dell'anno scorso Che c'avano tutti O altre 3-4 carte Che sono uscite Che erano meta-meta-meta Ricordatevi sempre Che comunque Stevo sotto il punto di vista Del meta Secondo me peccano Per una cosa La maggior parte Di quelli che poi diventano Meta-meta Vengono Comunque Buttati Di entrare una promo Dalot Per dirvi uscirà Ok Però ovvio Se ce l'avete Non scambiabile Si può fare Quindi questa È la prima parte Poi volete fare Il giocatore preferito Di voi davanti S'ho tentato De farmi Lorenzone Lucca Sempre lui Il grandissimo Magari portarmelo Fallo diventa 5-5 Va a fine A fine gioco Comunque Vediamo però Sicuramente Per iniziare Questo di Lorenzo Che poi il plus plus Sono quelli De chi ha quei ruoli Migliorati Insomma Do si comporta meglio In determinate situazioni Domani In teoria Facciamo uscire Tattiche E un builderino Il builderino Ho detto Si lo Io faccio Molo Io faccio Che tattiche Se tattiche Non le ho provate Che ieri ho shoppato Ho fatti i momenti Sto diciamo Cercando di Spipolare Tutto il team Tutte le sbc Tutti gli obiettivi Per trovare qualcosa Di non scambiabile Su cui fare il team A oggi Ho fatto tutte le avanzate Ho trovato Niente Ho trovato 40.000 Femm Mendy E Virz Go Anteprima Del 7 e mezzo Stop Vabbè Quindi andiamo a vedere Un po' I giocatori Più votati 2 consa pure Non è male Cusuno pure Tanta roba Secondo me Giocome Osaki Ah questo è bello A inizio del gioco C'è stata la parte Del Fenerbahce Che c'è da Maxi Man C'è lui C'è un altro centrale C'è un sacco Di giocatori interessanti Gusto Ah ovviamente Regà Appunto come l'anno scorso Diventano carte non scambiabili Quindi Se piate una carta Magari un if Sta 10 15 L'avete trovato scambiabile Lo buttate dentro Per farci tre partite Vi diventano scambiabili E Vi dovrebbe perdere Anche lo stato d'if Eviterete fallo Semplicemente Ecco Di Lorenzo pure Non è male per niente Dalot Come Scadioglu James Calulu Oddio questi non sono male per niente Sotto questo punto di vista Ultimate Evolution Così qua che ci abbiamo Vernier Mamma mia Vernier pure non ho visto Un paio d'evo Perché poi fa Into the Start Limit Più Ultimate 10 Diventa 83 E questo è rotto Vedete questo qua è rotto Questo è Meta buggato Che poi butta dentro C'è pure Hendrick Che è estinto Tel Ah ok Che cartina base c'è Tel Pure grosso Mi sa Un 83 Mi ricordo Bello largo Eh pure questo Niente male Jesus Sinaki Amma mia Amma mia Sei carta Greenwood pure Eh inizia a essere carte Questo Eh questo secondo me Tanta roba Col power shot Perché comunque Eh 3D dribbling Eh non è male Sicuramente È molto È pure la Jayce 92 di velocità Con 86 di tiro Bello Escono veramente Belle carte interessanti David pure È molto simpatico Ansufati Dungeon Uscì dall'SBC Ah Già che ci stavamo Voi lo dico Quell'Alaba Un'altra di quelle domande Era Alaba Do sta Alaba sta Negli obiettivi Sul live Apparentemente Dove fare l'SBC 86-87 Costo 110.000 Crediti Più giocare una partita A B-Alaba Vale la pena Il fatto è che Il ruolo è TS CC E CDC A livello dei CC E CDC A oggi Mi sembra uno dei migliori Del gioco Ed è Real Madrid Sì dura poco l'SBC E costicchia Però non mi sembra male Ecco Mi sembra veramente Una bella carta Che può giocare Per un mesetto Buono Mi sembra una carta giusta Apprezzata pure Abbastanza bella Oddio il Dio È tornato il 10 signa 75-77 All in the Greenwood No così Into to start to limit E questa è tipo La P1 dell'anno scu... Oh la cruma pure Devo fare il P1 Scusa ma non è andato al... Eh fate il Star Palace Loftus Ah pure a Loftus Si può fare Doku E comunque vabbè Qui andate a vedere Quelli meta Ok Invece su FoodGG Che vi stavo dicendo Che sta qui Andate su Evolution Questa è Alaba Che insomma Secondo me È una signora carta Con i ruoli 4-4 Poi c'ha i playstyle ottimi Perché c'è il lungo C'è l'affronta E c'è l'anticipo Secondo me è buono Evoluzioni Ci abbiamo Le Evo a disposizione Clicchi qua E ve fai Tutti i player Che puoi mettere dentro Con i vari filtri Ci hanno anche una roba Che è simpatica Perché Past e present Ad esempio Io posso mettere Magari dire Ma questo è Roma FC Ma no Roma è basta Ok Applica i filtri Su tutti quelli Ma gli so io Non è ex Roma Bachman Esserosellner Ex Roma Non ho capito Ma non ma È Roma Non mi sa che Non ha funzionato il filtro Comunque potete mettere A meno fino all'anno scorso Funzionava Ma non so che cazzo L'hanno combinato Però Fai evolvi Gli evoluti Metti Che ne so Tutti i difensori centrali Questa a parte Ho messo Quella per Per i powershot Però poi mette Magari che lo vuoi Che ne so Co-tecnico Quindi vai su Playstyle E te lo fai proprio Che ne so Fai un range Vorrei uno Co-tecnico E co-99 Con 90 de velocità Minimo Oppure tecnico O voglio uno Con rapido Ok Prendi e applichi E poi in teoria Metti pure Voglio past e present Uno ex Roma O ex Quello che vi pare Inter Milan Juve E così via E quindi Vanno andate a fare Una roba magari Un po' più mirata Simpatica E vi vedete subito Come diventa Tipo sto solde Vi fa vedere Poi ci sarebbe pure Level hub Dove Vi iscrivete Fate il login Mettete la vostra carta Evoluta in futuro Quindi la tenete da parte Con la vostra evoluzione La inserite E vi vedete Come diventa Poi una nuova evoluzione Che è uscita Per fare Evo su evo Su evo Su evo Ok Però anche questa roba Secondo me È molto interessante Allora Se dovete ancora Piare Il gioco I points E tutto quanto Cioè Te refera sotto In descrizione Per instant gaming Che insomma C'è sempre la roba Scontata Al prezzo più basso Possibile Mazzà Gli stanno andando a forte Su youtube Tra instant Skycoach E tutto il resto Allora Comunque niente Qui dovete andare a vedere Un po' voi Quello che volete fare Ve li avete già evoluti Anche Eppure qua Già evoluti Andate a mettere Che ne so Sort per Totaling game stats Quelli con più stats In assoluto Kussunuka Diogulo Antonio Ma sai che Sti cazzi Dei filtri Funzionano Vabbè Comunque Funzionano Tra due minuti Sono affixati Ma diciamo Che vanno Comunque Te danno una mano Pure a decide Chi fa De quelli Sicuramente Un po' più Esotici Un po' più Simpatici Quindi Prima ho fatto Del meta Ma sta a voi Decidere se fa Una roba Un pochettino più Magari Ho fatto Tipo una full serie Evoluta Cioè Sta pure una roba Tipo una full serie Evoluta Secondo me E questo è quello Vi dicevo False back Wide playmaker Wing back Attacking back Mazzà Rapido Whip Carino Pure di Lorenzo Evoluto Quasi quasi Perché io comunque Quest'anno faccio Il secondario Do provami Le carte Quelle brutte E lo usano Proprio come Secondo account Il principale Do Toria Spenne Misordi Quello full Roma Ma quanto Spenne Fine Toz E poi Top 100 Top 100 Top 100 squad Squad battle Non lo so Kouros Boris Formans 98 Potremmo In caso Storiella IG Vi mando tutto Su Instagram E vi dico che siamo live Ciao 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 Ciao